Sicuramente la paura del Covid ha fatto rimanere a casa un po' di persone. Ora noi siamo andati al quartiere Cimiano, abbiamo sentito le parole di Filippo Rossi che è stato il presidente di Seggio, ci ha un po' spiegato come sono andate le procedure di voto. Ripeto, alcuni non sono andati a votare forse proprio per la paura del Covid. Presidente, allora, seconda giornata di votazione, come sta andando? Anche che con la normativa per prevenire il Covid, cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi? Come sta andando? Direi che le operazioni si stanno svolgendo regolarmente, le persone arrivano in modo ordinato, tutte con dispositivi di sicurezza, quindi non c'è nulla da questo punto di vista da rilevare. Cosa cambia rispetto agli anni passati, come abbiamo visto dell'igienizzante, nella modalità di votazione che cos'è che cambia? Ci sono delle prassi da fare, lavarsi le mani con il gel appena si arriva, prima di ritirare la scheda, dopo averla votata. L'elettore inserisce la scheda del referendum direttamente nell'urna e gli viene timbrata la tessera elettorale in maniera normale, quindi l'unica differenza è che è esclusiva dell'elettore inserire nell'urna la scheda. L'ultima cosa, lei ha fatto il Presidente di Seggio diverse volte, rispetto alle passate tornate elettorali ha visto meno persone, qualcuno meno incentivato a venire a votare per il Covid, secondo lei o no? Il Covid fa paura, giustamente, le persone rinunciano al loro diritto costituzionale di votare e quindi bisognerà forse in qualche modo anche pensare a nuove modalità per raggiungere tutti gli elettori e permettere la piena democrazia.